Bene ragazzi e bentornati qui sul mio canale Oggi andremo a fare un video strano, diverso, non sono giochi, non sono giochi Ma è questo sito che si chiama Omegle Omegle Che trovi gente strana, tipo quel signore lì era abbastanza strano E boh, vedremo un po' che cosa dirà la gente, come si comporta Tipo, lui è vestito da militare E niente, ciao Ho un canale YouTube Mi sei... Infame Ho un canale YouTube Oh, Dio Bono Oh, Dio Bono Oh, mi senti... Oh, ma che cazzo fai? Mi senti? Oh, la prima, finalmente una che mi risponde Oh, grazie, grazie mille Cioè, su Omegle non c'è nessuno che mi risponde, è incredibile Comunque tu sei... adesso sei in un video, sto registrando, ok? Ti vedrai sul mio canale Perfetto La prima ce l'abbiamo fatta Fantastico, però se non vengono gli altri, Dio Bono Oh, mi senti? Sto registrando, sarai in un video Mi senti? Allora Oh, parla 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 E comunque mi piace sta cosa Perché comunque c'è la gente che non si capisce Ho un canale YouTube Adesso sto registrando Capito? Che infame Sto facendo un video su YouTube No, è la reazione più bella di tutte No, è la reazione più bella di tutte Oh, mi senti? Eh, boh, vaffanculo No, raga Mi senti? Sto registrando Parla, parla Con la bocca Vabbè, cerchiamo un altro Ah, quella di prima Bella Grandissima, grandissima Oh, mi senti? Vabbè, adesso vado Perché devi incontrare altra gente Ho un canale YouTube Sì, sì, bravissimo Ho un canale YouTube Se mi senti Allora Adesso sto registrando Andrà in un mio video Ragazzi, comunque È abbastanza carina questa cosa Perché Non so com'è che verrà il video Perché comunque sto parlando Con dell'altra gente Comunque spero che vi piaccia Lo sistemerò al meglio E... Niente Comunque la reazione più bella È quella di prima Che mi sono spattaccato alla pasta Ho un canale YouTube Grazie Per il tuo supporto Grazie Ho un canale YouTube Oh, ma dei deficienti abbiamo qua Sto registrando Sto registrando Un video su YouTube Cristo che è Cristo Zio, sei su YouTube Mi ha lasciato Comunque ragazzi Andrò ancora un po' avanti A cercare ancora un paio di persone Sono la tua mamma E io sono tuo padre No dai A parte gli scherzi Ehm Sto facendo un video su YouTube Ho un canale YouTube Sto registrando Siete su YouTube Adesso vado a fare il giro Ciao Ragazzi Meglio di così cosa si può fare? Boh Cioè È incredibile Minchia Sono sparati questi qua Sei su YouTube Ragazzi Comunque il video è finito qui Lasciate un bel mi piace Per Sostenere Perché sto facendo un video su YouTube No, no È vero Cioè Sono scappate veramente Comunque ragazzi Il video è finito qua Lascio un bel mi piace Un commento Ehm Mi piace Per lo sostenere Questa serie qui Ehm Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Ehm Niente Bella